L'Università dell'Aquila, colpita dalla tragedia dell'aereo caduto in Etiopia con 157 passeggeri, tutti morti. Fra le otto vittime italiane c'è infatti la figlia del professor Claudio Chimenti, ordinario di odontostomatologia dell'Atenea Aquilano. Virginia Chimenti aveva solo 26 anni ed era una cooperante consulente finanziaria per il World Food Programme delle Nazioni Unite. La città dell'Aquila si stringe attorno al dolore del professor Chimenti e dei suoi familiari per la tragica perdita, è quanto ha dichiarato tra l'altro il sindaco della città Pierluigi Biondi. Ed anche l'Atenea Aquilano si stringe nel dolore per la prematura scomparsa della figliola del professor Chimenti. Virginia Chimenti, si legge in un post dell'Università, da sempre impegnata nel volontariato e interessata all'Africa e al suo sviluppo economico e sociale, dopo la maturità scientifica al liceo romano Amedeo Avogadro e la laurea a Milano ed un master in studi africani ed orientali a Londra, aveva lavorato nella sede milanese di Alice for Children per poi occuparsi del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo. Poliglotta conosceva perfettamente inglese, francese e spagnolo. Da due anni era entrata nell'agenzia WFP delle Nazioni Unite con sede a Roma, dove si occupava dei budget per i servizi logistici. La rettrice Paola Inverardi, a nome di tutto l'Ateneo, esprime la sua vicinanza e dolore alla mamma Daniela e al papà Claudio.